amici ben ritrovati da quest'anno oltre ai miei soliti video che continueranno ad uscire regolarmente con l'attuale format e tipologia di copertine che conoscete bene inizierò a pubblicare anche video che richiedendo meno tempo di editing potranno così trattare quelle notizie passeggere che vorrei però comunque raccontarti la prima tipologia di video continuerà a trattare tutti quegli argomenti che diciamo saranno validi anche tra cinque anni che ne so il femminismo il maschilismo l'aborto le karen nella seconda tipologia di video tratterò invece quelle notizie di passaggio che ne so l'arresto di andrew tate notizie di passaggio che già la settimana seguente non sarebbero neppure più interessanti per evitare di mettervi tutto il tempo che parlo ciò che state vedendo ora avrà invece come sfondo principale dei gameplay o altro sul modello di twitter e di tanti altri youtuber americani e queste tipologie di video avrà questo differente tipo di copertina tenendo solo il mio format attuale che richiede due tre settimane per realizzare un singolo video non riuscirei mai a star dietro notizie interessanti che vi vorrei raccontare ma che sarebbero già vecchie dopo 24 ore dunque figuriamoci dopo due settimane se non vi piace questa idea tranquilli le copertine differenti serviranno proprio a distinguere subito i due format senza che dobbiate neppure aprire il video questa è semplicemente una cosa in più non toglierà nulla a ciò che già conoscete apprezzate da due anni e mezzo di questo canale se vi va fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate a presto e noi ci vediamo al prossimo video